La base di tutto c'è questo grande progetto che c'è a Tortona, queste grandi ambizioni che sono ormai risapute nell'ambiente, la voglia di far bene, di crescere. Dopo essere stato la Virtus e anche capitano avevo bisogno di trovare un posto con nuovi stimoli, magari giocando per qualcosa di diverso, essendo al centro di questo grande progetto che c'è qua a Tortona. Questi sono i principali motivi che mi hanno spinto a scegliere il Dertona Basket ed eccomi qua e spero di portare quelle cose che abitualmente ho portato nelle scuole dove ho giocato. Sì, sono due persone, sono due amici innanzitutto per me, conosco molto bene anche Mirza che avevo giocato con lui a Brindisi, sì li ho sentiti e diciamo che con loro, con Gabriele e con Lorenzo mi sento quasi tutti i giorni perché sono veramente degli amici come ti dicevo e sicuramente Lorenzo è stato un punto chiave nella mia scelta di venire qui, mi ha aiutato, mi ha fatto presente pregi e difetti del posto, le ambizioni che ci sono qui e tutto quel progetto che dicevo prima. Per cui sì è stato Lorenzo principale, poi io ho fatto da tramite a Gabriele, poi dopo è stato un trenino che si è formato. Sì, quest'anno diciamo che è un po' più diverso, è un po' particolare perché la prima sale subito, si ritorna al vecchio formato che c'era una volta con le due promozioni dove la prima andava su diretta e poi un'altra dopo i playoff, è un campionato sicuramente secondo me, squadre come noi, Roma, Scafati, sono quelle che vedo un po' diciamo più in alto rispetto alle altre e bisogna partire forti subito perché con la nuova formula non ci sono più i playoff per cui anche la preparazione deve essere mirata ad essere pronti subito. Io ricordo l'anno di Verona dove arrivamo primi con dieci punti di scarto sulla seconda che era Brescia e poi uscimo al primo turno di playoff per cui bisogna cercare quest'anno di vincere la regola season subito. Questa è una domanda che non mi piace rispondere e non ti rispondo per il semplice motivo che non mi piace parlare di me, ecco se magari lascio gli altri parlare di me io devo fare le mie cose in campo e basta. Claudiano è un fatto diciamo così scherzoso, è bello perché quando ero a Capodorlando con Pozzecco lui mi chiamava sempre Claudiano, non so se vi ricordate Claudiano e Valeriana, i tronisti che erano a Zelig secondo lui ero Claudiano e ogni volta che lo vedo me lo ricorda e mi saluta sempre con la posa di Claudiano che si sedeva in quel modo lì diciamo. Un saluto più che altro un ringraziamento alle persone che mi hanno portato qui, che hanno creduto in me, che credono in me, come dicevo sono stato il primo acquisto e ne sento la responsabilità. alle persone che sono fuori dico di venire a vederci, di venire a vedere come è stata costruita questa squadra, che persone ci sono e poi di valutare. Il campo non mente mai, quei 28 per 15 non dicono bugie.